I valori sono molto soggettivi I valori dovrebbero esserci in ogni persona, in ogni ragazzo e io spero che la famiglia sia come ci perdi La famiglia si ha un valore è un valore importante perché comunque ci sono persone con cui puoi fare riferimento e non devi dubitarle senza tanti problemi penso che sia una delle cose più sicure che possa esistere Nell'ultimo decennio la famiglia è stata interessata da profondi cambiamenti strutturali e relazionali che anche la pubblicità ha saputo cogliere e mostrare Già nel 1998 un'indagine Istat rivelava l'incremento di nuovi nuclei familiari post divorzio e piano piano quella che era l'allegra famiglia del mulino bianco si trasformava in una famiglia monogenitore o come alcuni spot mostrano una famiglia ricostituita o allargata Un altro dei mutamenti della società contemporanea è dovuto al calo demografico La diminuzione delle nascite ha preso il sopravvento dal 2008 e persiste ancora Secondo i dati dell'Istat infatti nel 2011 sono stati 15.000 inonati in meno rispetto al 2010 lo stesso calo si è registrato nell'anno appena trascorso La pubblicità sembra aver colto anche questo dato e infatti le famiglie numerose che spopolavano negli spot degli anni 90 si sono ridimensionate di questi tempi crearsi una famiglia è un rischio è sempre una bellissima cosa creare una famiglia però penso che sia un rischio perché i tempi non te lo permettono potrai avere dei figli e comunque bisogna mantenerli questi figli come li mantieni in questi tempi? cioè che certezza e che sicurezza puoi avere? no, non è fattibile Nella società che è persa cioè non ne vedo poche in famiglie di belle famiglie io per quanto mi riguarda posso dire di vivere in una famiglia la cosiddetta famiglia di un marino bianco quindi non posso non crederci però capisco che è difficile comunque credo per la famiglia si basa su un sentimento e non su una società magari economica o una crisi come tra i migliori nostri il calo delle nascite per alcuni è dovuto alle ultime crisi finanziarie che hanno attraversato il nostro paese le quali hanno anche ridimensionato il desiderio di mettere su famiglia negli italiani il matrimonio infatti gode sempre di minor fascino e chi si sposa ha ampiamente superato i 30 anni è una ricerca dei primi del 2000 fatta dall'Istat infatti a rivelare questa tendenza si è possibile però poca gente ci crede molte persone non se la sentono sempre più 30 anni vivono ancora con i genitori sentito? stanno parlando di te negli ultimi anni a questi spot critici ne sono stati affiancati sempre alcuni che incitano a volte anche esplicitamente a mettere su famiglia questo anche facendo risaltare nel rapporto genitori figli la componente ludica trascurando i possibili conflitti che si creano soprattutto quando i figli sono in età adolescenziale ma la famiglia non è cambiata solo nella struttura con la progressiva emancipazione della donna e il suo ingresso nel mondo del lavoro è iniziato ad emergere un significativo numero di coppie egalitarie caratterizzato da un modello di responsabilità condivisa tra marito e moglie di fatto però dalla visione degli spot per l'uomo la casa continua ad essere un luogo in cui rilassarsi mentre la gestione domestica è vista solo come un'attività ludica da svolgere con i figli molti altri sono i temi riguardanti la famiglia e i mutamenti sociali che la pubblicità ha affrontato e continua ad affrontare ancora oggi e se è vero che per alcuni aspetti presenta una scarsa aderenza alla realtà per altri cerca continuamente di adeguarsi e rappresentare il cambiamento sociale la famiglia dal canto suo appare oggi come un organismo debole e malnutrito che per sopravvivere si disgrega in più nuclei indipendenti ma la sua funzione sociale e il suo valore sembrano rimanere nonostante tutto intatti e la fiducia che i giovani ripongono in essa fa sperare in un futuro dove ancora per molto continuerà ad essere un'istituzione il cui compito principale è quello di dare amore e stabilità ai suoi membri grazie a tutti grazie a tutti